Il ristorante Pizzeria Il Torrente e il Metart Café di Via Torrente Forno a Capodorlando dopo il grande successo dello scorso anno vi invitano alla seconda edizione di Pizza in Piazza. Sabato 7 e domenica 8 giugno dalle ore 19.30 pizza, crepe, cornetti, cocktail, musica live, gonfiabili per bambini, esibizioni e tanto divertimento. Pizza in Piazza a Capodorlando in Contrada Forno nella piazzetta antistante le scuole medie.